Il fatto che si tratti dell'ultima riunione fa sì che ci siano diverse decisioni da prendere, anche di un certo rilievo. Molto rilevanti sono le decisioni che abbiamo all'ordine del giorno sulle infrastrutture. Sappiamo che il rilancio delle infrastrutture è fondamentale per i nostri investimenti. Decisioni rilevanti sui fondi per la cultura e per il turismo, con un'attenzione particolare alle regioni meridionali. Decisioni molto rilevanti per quanto riguarda i nostri piani operativi per l'ambiente. E infine sottolineerei anche la importanza delle decisioni che il CIP prenderà sul tema delle fondi per contrastare le delocalizzazioni industriali, visto che è un tema di cui si è parlato molto e giustamente nelle ultime settimane. Quindi un'agenda piuttosto fitta e credo che sia un motivo anche di riconoscimento al lavoro degli uffici che per la segreteria del Cipe, che ci hanno consentito di sviluppare questo lavoro nel migliore dei modi. Grazie. 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 Grazie.